il posto di tirano è diventato tutto non si è lanciato che dà che dà cazzeria vai là vai là vai là andiamo e dopo la quinta volta dai cazzo qui sapevo passavo un mio amico 30 mila euro di moto sapevo passavo un mio amico cazzo eravate giù 25 mila euro di moto non venire giù davanti perché pronti vieni vai ingroppato è ingroppato su e lui non mi volate più adesso che è caldo adesso non mi fermo se mi dicono che è se mi fai vai ok non mi fermo non mi fermo non mi fermo non mi fermo però